Questo è un chiodo fisso, anch'io il mio chiodo fisso, quello di volervi raccontare una bella cosa. Speriamo che almeno oggi quel fanfarone di Dario ci lasci in pace. Ha, illusi! Vedrai che tra due minuti sarà qui a prendersi per il naso un'altra volta. Se dite ragazzi, vi faccio una proposta. L'unico modo di salvarsi da lui è quello di non dargli corda a qualsiasi cosa accada. Il primo di noi che dirà una sola parola pagherà da bere a tutti quanti per almeno una settimana. Eh? D'accordo? D'accordo! Salve! Ragazzi, statemi da ascoltarmi, ma mi raccomando non interrompetevi, perché oggi sono un po' nervoso. Non ve l'ho mai detto, ma io da qualche anno sono il capo della ganga dei nasi schiacciati. Che è la ganga di bruciati più bruciati di tutta la città. Permette? Grazie. L'altra sera, mentre stavo tornando da una delle mie solite razzie, proprio in vicolo degli impiccati, mi sento ferrare per il collo. Fermo, non ti muovi, non sei morto. E' un inquadro davanti a me. Cinque con quello che mi treva per il collo. Vedo in loro occhi uno sguardo di odio. Un'espressione diabolica. Lo so chi siete. Siete quelli della banda del buco. E lo so anche cosa volete da me, volete sfregiarmi. È vero! Olla! Attenti, chi parla paga da bere. Olla! Ma ecco un'ombra che spunta dietro a un muro. Che è forse uno della polizia. Che faccio? Estraggo la mia ragionina portatile, accendo, prendo una parrucca e la metto sulla testa di uno dei miei aggressori. E con lui comincio una magnifica danza. Via! Olla! Ecco! Prevolo della polizia. Ma è un impresario per balletti moderni. Che vedendo come balliamo bene, si scrittura tutti quanti per un balletto di Broadway. Domani partiamo per l'America. Eh no, basta. Pago da bere a tutti, ma devo parlare. Questa non l'avevo. E questa la mangi? Ah, questa sempre. Eh, è pasta barilla. Con pasta barilla è sempre domenica. Ed ecco i nidi di rondine barilla. Le famose tagliatelle di Parma. Cinque uova in ogni chilogrammo. Noi preferiamo il nido di rondine che è vera pasta all'uovo. Di uova in ogni chilo per cinque ce n'è. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Domani anch'io la provo. Per i bimbi, per tutti. Pastina glutinata a barilla. Con pasta barilla è sempre domenica.